Oggi è il primo giorno libero dopo due mesi e ho quasi la pelle d'oha e l'obiettivo di oggi cercare di non schiantarsi contro un palo contro un muro perché le sensazioni sulla bici mi sento un buon pedito spettacolo tra un po' mi ricordo nemmeno come l'era fatta sta strada ciao a tutti